Siamo a casa di Maurizio Astecca, qui in mezzo ai suoi trofei, campioni olimpico, pluricampioni del mondo. Però in questi ultimi due anni abbiamo imparato che questo maledetto virus, il Covid, non ha paura di nessuno, non ha paura di un pugile, non ha paura di un picchiatore, di un atleta come te. Infatti all'inizio di dicembre purtroppo si è ammalato di Covid, in una forma molto grave che ti ha portato subito in ospedale ad essere ricoverato. C'è da dire che Maurizio aveva già fatto due cicli di vaccino, però aveva già una malattia pregressa, una malattia del sangue che ti rendeva comunque vulnerabile. Quindi arrivi in ospedale dove rimane 54 giorni a combattere tra la vita e la morte. Questo è stato il tuo match più difficile, più duro? Certo, l'ho chiamato il match della vita perché aver vinto tutto quello che c'era da vincere ormai l'avevo fatto. Questo è stato un match che è durato, come dici tu, più di 50 giorni, che sono rimasto un po' così il chi va là tra la vita e la morte, avendo poi fatto due vaccini. Il secondo vaccino sicuramente mi ha dato quella piccola protezione per rimanere un po' in vita. Ho cambiato le due cliniche, l'ospedale di Treviso e poi ho fatto la clinica di riabilitazione a Motta di Livenza dove avevo perso gambe, avevo perso un po' il tronco, non riuscivo a stare in piedi e ho cominciato a fare tutta la riabilitazione dove adesso sono uscito. In questi 54 giorni, oltre a lottare contro questo virus, hai dovuto lottare anche con un dolore molto grande perché due giorni prima che tu uscissi dall'ospedale, tua madre è venuta a mancare. E quindi il tempo prezioso che il Covid ti ha rubato era il tempo che tu avresti potuto passare con tua madre. Insomma, un dolore che si aggiunge a questa sofferenza. Certo, il Covid porta dispiaceri e anche dolori nel fatto che mia mamma è deceduta due o tre giorni prima dalla mia uscita dalla clinica e poi anche 55 giorni a non vedere nessuno, né i familiari, né quelli che ti stanno vicino, né amici, altre cose. E ti porta anche questo un dispiacere enorme perché poi vivi in una clinica poi da solo, va bene, anche con altri pazienti, però è tutta un'altra cosa, vederli familiari, magari un giorno sì, un giorno no, e ti porta più tranquillità alla situazione tua personale e caratteriale. Una cosa che mi raccontavi che ti ha colpito è che hai visto per tua esperienza il lavoro di tutti i medici, gli infermieri che erano accanto a te, che lavoravano giorno e notte senza sosta, con le mascherine, le tute, con fatica per assisterti. Addirittura avevi alto angolo, per così dire, fino a otto persone, quindi otto persone per un paziente. Quindi un costo, un impegno molto importante. Certo, io ringrazio veramente a tutti perché bisogna solo vedere e provare a testimoniare le cose, perché io veramente le ho vissute. Ogni 20-25 minuti venivano tre o quattro infermieri subito a vedere le cose e dottori di alto livello che venivano a vedere le situazioni. A me mi chiamavano Maurizio, ormai era un'abitudine che ormai poi mi conoscevano, mi hanno conosciuto chi ero, chi non ero, però vedere loro tutti con due paio di guantini, due camici, e coperti con la visiera e tutto quanto, io vedevo solo il mio mignolo e poi magari li riconoscevo nell'ultimo. Però ecco, è stato un periodo molto brutto dove un po' mi sono rifatto nella clinica di riabilitazione dove lì ero tutto libero e praticamente facevo solo riabilitazione, ma mi curavo nello stesso tempo per la mia patologia. Hai parlato dei due compagni di stanza. Dicevi che spesso accanto, nel letto accanto, c'erano persone non vaccinate. Di che parlavate? Sì, certo, loro sicuramente, io gli facevo anche la domanda, ma come mai? Eh, ma io ho preso il Covid, ma sono stato uno stupido a non vaccinarmi perché ascoltando poi gli amici, che come anche io poi il mio lavoro era rappresentante e tutto, mi dicevano, no, ma tanto stai calmo che non ti succede niente e lui ha creduto a tutte queste cose e poi nell'ultimo ha detto, no, adesso io quando finisco qui mi vado subito a vaccinare. Quindi si sono pentiti, come si sono pentiti anche i tuoi figli, anche loro erano un po' arresti a vaccinarsi e dopo quello che ti è successo anche loro suonare subito a farsi il vaccino. Serena? Maurizio, ti volevo ringraziare per essere stato con noi, per averci portato alla tua testimonianza, per averci anche fatto vedere quelle belle cinture che sono i tuoi premi vinti nel corso della tua carriera e per averci comunque detto che... Sono solo alcuni questi qua, è pieno di trofei. Immagino che i trofei siano tanti.